E' un'altra cosa. Voi volete essere felice e volete controllarmi perché credete che altrimenti rovinerei la vostra posizione. Hai già causato un immesso danno, così come quel vagabondo di nostro fratello. Fatemi scendere da questa carrozza. Negherò di essere vostra sorella a chiunque lo chiede e lo farò con estremo piacere. Tu sei sotto la mia tutela e farai quello che ti dico! Ora dammeli. Sono soldi miei, dopo tutto. Brava ragazza. Grazie.